Non migliora affatto la situazione in via Rimini a Montesilvano, un fazzoletto di terra in cui insistono case ater di proprietà della regione Abruzzo, in cui, dice Domenico Pettinari, criminalità, spaccio e soprusi fanno da padroni. Della questione si era già occupato il vicepresidente del Consiglio regionale che questa mattina è tornato a puntare il faro sull'emergenza sicurezza a Montesilvano, accompagnato dal consigliere comunale Giovanni Bucci. L'emergenza sicurezza delle stelle, che significa spaccio di droga notte e giorno, persone delinquenti, criminali che tengono il volume altissimo anche nelle ore notturne, minando la tranquillità dei cittadini onesti, qui si sono registrate diverse aggressioni, una fatiscenza, io dico vergognosa, dei luoghi, degli stabili, dei palazzi, degli edifici. Abbiamo situazioni a limite della sopportazione con occupanti abusivi delle case popolari, significa che sono persone che occupano abusivamente e le sottraggono le case popolari a chi ne ha diritto. Furti di corrente elettrica, soprattutto in questo periodo, quindi facendo pagare di più agli altri condomini perché si allacciano a corrente delle scale. Per non parlare aggiunge dei rifiuti e del degrado, c'è di tutto, motorini usati, biciclette, persino vatera, tappeti e gomme, pettinari si appella alla regione Abruzzo. Attivare, riattivare sfratti gli occupanti abusivi, fare una verifica dei requisiti in base alla legge 96-96 per vedere coloro che non hanno diritto devono essere cacciati da queste case popolari per metterci cittadini onesti, verificare gli allacci sono abusivi anche alla corrente elettrica e fare una pulizia perché adesso le immagini parleranno da solo, vedrete il degrado pazzesco di questi luoghi. Vogliamo una risposta immediata per consentire la tranquillità e ripristinare la legalità in questi posti. Una situazione che va avanti da tempo, afferma il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Montesilvano, Giovanni Bucci. Non ultimo abbiamo delle situazioni dove in queste palazzine ci sono dei disabili, disabili una in particolare che sono due anni che non riesce a uscire di casa poiché palazzina non servita da ascensore e noi all'ultima commissione in comune siamo riusciti ad ottenere da Ater per l'installazione di un servoscale grazie anche alla donazione della Regione Abruzzo che ha fornito ad Ater il contributo per l'installazione di questo servoscale che speriamo venga attivato al più presto. In questo il Movimento 5 Stelle si è impegnato per poter far avere questo contributo e sembra che per l'inizio di dicembre dovrebbero iniziare i lavori. Grazie. Grazie. Grazie.